Radio Italia, solo musica italiana con Daniela e Simone come sempre fino alle 21. Ci godiamo la musica ma ci godiamo anche delle belle presenze e lui ormai è un amico, un affezionato al nostro appuntamento. È vero, stiamo parlando di Oscar Di Montigny. Ciao Oscar, bentornato da noi in questo momento in cui ci racconti come è andata questa nuova stagione che sta terminando dei Nuovi Eroi. Siamo alla fine del tempo dei Nuovi Eroi, quarta stagione. È bello vedere come stiamo andando sempre più in profondità. Il pubblico sta rispondendo, ci continuano a scrivere storie, proposte di storie e quest'anno ne abbiamo ascoltate veramente di molto interessanti. E c'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente in questa tranche? Guarda, allora devo dirti, noi solitamente abbiamo tre o quattro ospiti noti. Quest'anno penso a Fabrizio Moro, Daniele Silvestri, a Paolo Ruffini, a Levante. E da queste persone, da questi compagni di questo viaggio è bello lasciarsi suggestionare con storie magari meno note della loro dimensione più interiore e meno pubblica. Però dobbiamo ricordare che su questo palco è stato Ale Silvello, uno dei maggiori attivisti del movimento Fridays for Future a Milano. Abbiamo avuto esperti di sostenibilità, abbiamo avuto persone impegnate nell'ordine pubblico che hanno scritto fumetti per impattare sulla socialità di una città complicata come Palermo e così altri. E quindi niente, alla fine scopri che non è la notorietà ma ci si incontra sempre nell'intimità del buon senso di una vita sana. E quindi sono sempre piccole gioie. Una cosa importante, tanti protagonisti, tanti temi, ma non ci lascerai così a bocca asciutta, tornerai nel senso che adesso prenderai qualche tempo di pausa. Ci pigliamo una pausa e valuteremo le proposte che, come dicevo prima, ci stanno arrivando spontaneamente alle caselle di posta elettronica della radio. Per capire anche se poi effettivamente là fuori ci sono storie che non abbiamo intercettato e ci sono sicuramente di grandi interesse. Abbiamo già dei nomi importanti per l'anno prossimo e credo che questa suggestione andrà sempre più in profondità. Bene. Quindi possiamo dirlo, ci rivediamo e ci risentiamo in primavera. Ci rivediamo e ci risentiamo in primavera. Quindi il tempo dei nuovi eroi tornerà col sole. Ci rivediamo e ci risentiamo in primavera.